Le sanzioni non faranno finire la guerra, la guerra sarà lunga. Sarà lunga, peraltro precisiamo, la guerra è cominciata nel 2014, tecnicamente. Adesso noi ne vediamo una recrudescenza, sicuramente molto grave, ma ufficialmente la guerra è iniziata nel 2014. E quindi si protrarrà il dubbio se adesso entreremo in una fase di stallo che la allungherà sine die, oppure si comincia a travedere una soluzione. Purtroppo la sensazione è che si entri in una fase di stallo, cioè vale a dire rischiamo di entrare in una situazione di logoramento sine die, perché le posizioni da punto di vista diplomatico sembrano davvero molto lontane. Non abbiamo più le regole, delle regole certe, come ad esempio era nella guerra fredda. Nella guerra fredda nel mondo degli schieramenti, dei due schieramenti, i comportamenti degli stati erano molto più prevedibili. Adesso noi siamo in un mondo in cui l'ordine liberale è compromesso, il mondo in cui eravamo abituati a vivere non ci sarà più, è necessario riscrivere delle regole anche tra gli stati. Molti stati stanno aspettando alla finestra.